Ciao ragazze, allora sono qui con un nuovo video ed è il video sui miei burro cacao che ho in questo momento e vi avevo già accennato che ho avuto appunto un mese, un mese e mezzo di una situazione un po' problematica per le labbra e il contorno labbra molto secche quindi ho provato un po' di tutto, tantissime cose che ho qui ancora perché comunque continuando a comprarne poi non ho finito tantissime cose insomma non ho finito tutto e quindi volevo darvi un po' dei consigli dei suggerimenti insomma per come mi sono trovata io con questi prodotti e ovviamente ogni pelle è diversa però insomma penso di poter consigliare abbastanza bene dal momento che comunque questa secchezza non andava proprio via cioè ero super super secca per fortuna insomma la situazione è migliorata con un prodotto che non conoscevo e l'ho trovato miracoloso davvero dopo poche applicazioni la situazione si è risolta e devo ringraziare una mia amica che me l'ha regalato dopo averne parlato insomma quindi vabbè dopo vi spiego ho diviso i prodotti in flop medi e top e la maggior parte sono nei medi comunque quindi che vanno bene appunto per delle labbra mediamente screpolate ecco quelle un po' magari della vita di tutti i giorni che magari si stressano durante la giornata e quindi hanno bisogno di un'idratazione appunto media allora partiamo dal flop da questo burro cacao che per quanto mi riguarda non fa assolutamente niente cioè non conta cioè non conta nulla e nonostante questo io comunque continuo a utilizzarlo perché voglio finirlo sto parlando di questo che è della Yves Rocher e della linea questa bio in realtà non penso sia proprio bio in più cioè non viene venduto con nessuna scatolina cioè proprio così e non ci sono neanche gli ingredienti quindi questa cosa non mi è piaciuta per niente comunque a parte quello e questo è il balsamo labbra da 10 ml quindi ce n'è proprio tanto di prodotto perché di quelli e liquidi dentro non è quelli in stick ecco per capirci no si schiaccia ed esce da qui e non fa niente sostanzialmente almeno su di me non ha fatto sostanzialmente niente e poi cioè sembra rimanere sostanzialmente in superficie e non assorbire nulla quindi io ve lo sconsiglio l'ho preso così senza nessuna review niente non mi ero informata così perché è l'unica volta che ho comprato qualcosa da Yves Rocher quando ho preso questi altri prodotti perché volevo provare questa questa marca quindi ho preso un po' di cose così però non mi è piaciuto non fa niente ecco resta lì in superficie non nutre no poi e questo è l'unico flop davvero che non fa niente passiamo ai medi prodotti che qualcosina fanno però se siete in situazione super disastrosa non vi aiutano allora partiamo da questo che vi ho fatto vedere in un video haul ed è questo qui il biocao della saponaria l'avevo già mostrato comunque io l'ho usato vabbè qui adesso non vedrete però insomma forse un po' vedete che comunque sono andata a fondo in ogni caso ne ho ancora un bel po' qui gli ingredienti ci sono non ho controllato poi non è che io me ne intenda particolarmente ecco ne ho ancora un po' e questo comunque c'è scritto che è vegan ha il burro di karité e menta e dentro ne ha 7 ml comunque questo è solido insomma la formula classica questo quando appunto adesso che mi sto un po' riprendendo che mi sono abbastanza ripresa comunque avendo in ogni caso le labbra leggermente screpolatine con questo va bene e quindi lo consiglio se avete una situazione ecco nella norma ma non super screpolata lo stesso discorso vale per questo della dottor Bronner questo qui è quello al limone lemon lime questo è piccolissimo cioè se questo è cicciotto non dico del packaging se questo è cicciotto questo è proprio piccolo vabbè infatti mi ha fatto un po' strano perché non avevo mai visti così piccoli in realtà non mi piace molto il la confezione il packaging perché si gira qui in fondo come quello della saponaria però ha veramente pochissimo spazio cioè proprio così mezza cioè una briciola per girare quindi insomma il packaging non mi piace questo è molto burroso cioè lo mettete sulle labbra non schiacciate perché cioè appena appoggiate scivola idrata tantissimo è tanto 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 burroso mentre questo lo applicate sembra che non lasci niente in realtà rilascia questo è molto più secco per capirci questo invece è proprio un burro puro ha un buonissimo profumo di limone questo va via come il pane perché appunto con questa formula si si consuma velocemente anche qui ci sono gli ingredienti questo dovrebbe davvero essere bio perché la dottor bronner è una marca bio insomma infatti qui ci sono anche gli gli stemmini insomma non mi intendo che ci sono di solito sui prodotti bio è anche non testato sugli animali se può interessare e questo mi era stato consigliato da una mia amica era andata alla ricerca perché lei mi diceva che sulle sue labbra è assolutamente miracoloso su di me non ha fatto lo stesso effetto appunto per il discorso che ogni pelle è diversa quindi insomma vi do i miei consigli che però possono valere oppure no insomma comunque è sempre tutto relativo però insomma sentire una voce in più non fa mai male questo per me va bene se è una situazione di media scrupolatura non una scrupolatura eccessiva però insomma se vi interessano le cose bio questo è un buon prodotto ce ne sono quattro gusti che hanno colori diversi adesso non me ne ricordo avevo preso questo perché lei mi aveva consigliato cioè lei aveva proprio questo mi ha detto vabbè vado sul sicuro e lo prendo e comunque anche questo continuo a utilizzarlo come tutti gli altri poi probabilmente ero linciata ma questo burro cacao io non lo metto tra i top perché appunto in questa situazione sto ripetendo sempre le stesse cose però questa situazione non mi ha risolto ed è questo il famosissimo Rêve de Miel della Nuxe vi ho fatto vedere nei prodotti finiti lo stick anche quello lo inserisco nei medi perché è un buon prodotto se si hanno le labbra medio screpolate lo stesso vale per questo secondo me comunque l'ho usato un bel po' perché questo contatto è che arriva proprio fino al bordo c'è davvero tanto qua dentro ce ne sono 15 grammi ha un buonissimo profumo di un po' di limone forse più che di miele vabbè a parte questo una cosa che non ho mai sentito dire da nessuna ma che a me da fastidio in realtà è che quando si applica non in tutti i punti ma la maggior parte di punti nel senso quando si preleva dalla boccettina e si mette sulle labbra ci sono dei microgranuli cioè dei microgranuli come se fossero scrub pochi ogni tanto però mi da un fastidio cioè non dovrebbero esserci su un buon cacao scusate quindi io non la capisco questa cosa e non l'ho mai sentito da nessuno quindi boh non so mi è capitato anche a voi se mai ditemelo e comunque sì questo io comunque ce l'ho sul comodino perché in questo formato portarlo in borsa non è il caso e questo va bene se ho le labbra mediamente screpolate non in una situazione disastrosa e inserisco anche se non è solamente un burro cacao il burro di karité 100% bio che vi ho fatto vedere anche questo nel video insieme al burro cacao anche questo è della saponaria il burro cacao della saponaria e ho preso anche questo sempre per lo stesso scopo perché ho detto più di un burro di karité al 100% perché qui c'è dentro solo burro di karité cos'altro può esserci l'ho usato un po' e si presenta appunto in questa forma granulare non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere però appena è a contatto con il calore del corpo si scioglie diventa proprio oleoso si oleoso burroso questo penso no questo vale lo stesso discorso di questi altri medi va bene se siano le albre mediamente screpolate ma per una situazione disastrosa no voglio parlarvi del burro cacao che invece risolve la situazione disastrosa non l'avevo mai sentito non l'avrei mai provato se questa mia amica non me l'avesse regalato perché questo è di questa marca della Stan Stan home è una marca che si vende attraverso rivenditrici ad esempio come la Avon e quindi questa mia amica le era stato regalato da da una rivenditrice Avon che è la del suo ragazzo che ogni tanto le fa dei regali e ne aveva due di questi e mi ha detto che uno ne aveva chiuso e se volevo provare quindi è stato il mio angelo custode perché questo è fantastico cioè io l'ho messo già dopo la prima volta che l'ho messo ho visto dei miglioramenti cioè davvero lo terrò sacro e quando lo finirò perché comunque anche qui ce n'è un bel po' perché ce ne sono 15 ml quindi per fortuna mi durerà anche perché è nella versione liquidina quindi durerà un bel po' 15 ml come questo e quindi non finirà mai comunque meglio perché è veramente fantastico cioè le idrata e poi a differenza degli altri non rimane in superficie l'untino del burro ma lo assorbe subito cioè dà proprio quella sensazione le labbra hanno bevuto diciamo questo questo burro magico e questo non è bio ma non mi interessa è testato sulle pelle sensibili si chiama della linea derma care ed è una crema riparatrice per le labbra screpolate e quindi se avete l'occasione di incontrare qualche rivenditrice della stand home cioè prendetelo cioè è fantastico io sono innamorata sono davvero innamorata l'unica cosa che non mi piace è il packaging perché ha questa pallina sopra cioè non è tagliato di netto come quello dell'Iveroshe che facilita l'applicazione qui ha un po' una pallina quindi bisogna fare un po' gli equilibristi non gli equilibristi insomma prenderci un po' la mano però chi se ne frega è fantastico sono innamorata quindi niente spero di esservi stata utile cerco adesso di recuperare i prezzi di questi prodotti e ve li metto giù nell'info box questo vedo se riesco non so se questa questa marca abbia un sito comunque ci provo di alcune cose mi ricordo i prezzi di altre no però prendete questo prendetelo è fantastico vabbè io vi saluto ciao